Sì, è una giornata che era iniziata nel migliore dei modi, con una vittoria molto larga, giocata molto bene. La seconda partita è andata male per voi, è una partita che è stata molto combattuta e molto incerta. Insomma, alla fine della giornata siete più contenti per l'1-1 o più arrabbiate perché vi è scappata di mano la seconda? Sicuramente anche la seconda partita era una partita che potevamo chiudere. Abbiamo sicuramente subito il loro lanciatore e sicuramente settimana prossima bisognerà cercare di avere un approccio diverso. Questa partita Greta ha tirato un'ottima partita e i nostri lanciatori sono stati perfetti in entrambi le gare. Nella seconda partita pensi che nel tiebreak potevate fare qualcosa di più? Si può sempre fare di più, soprattutto al tiebreak. Abbiamo sfruttato, diciamo, non abbiamo sfruttato al 100% le occasioni del tiebreak. Sicuramente ci servirà la settimana prossima per tornare in casa con uno spirito diverso e giocare a casa nostra in maniera diversa. La settimana prossima saremo in casa, arriviamo da una stagione passata con dei ricordi brutti in casa e sicuramente quest'anno è il momento di giocare in casa alla nostra finale. Ok, grazie.